E in corso la simulazione del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it test test. Massignano e Campofilone si sono messi insieme per una esercitazione che ha alla base l'ipotesi di collasso della diga di Rio Canale sul torrente omonimo che attraversa i due comuni. Si è voluto ancora testare la capacità di It Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico, che si serve dello smartphone per avvisare i cittadini di emergenze e calamità naturali. Obiettivo verificare se tutti i presenti nel territorio ricevono allo stesso modo la segnalazione per poter intervenire tempestivamente. Abbiamo attivato 10 sentinelle su tutto il territorio di Campofilone che una volta arrivato il messaggio si attiveranno per dare delle risposte in modo che la protezione civile possa capire se i messaggi sono arrivati a tutti i tipi di telefoni, a tutti i gestori della telefonia perché questa è una cosa che è importante e potrebbero esserci dei problemi in quel senso. Rispetto alla precedente esercitazione, l'ultima il 12 settembre scorso, questa volta la zona interessata è stata soltanto quella dei due comuni dove è collocata la diga. L'allarme arriva tempestivamente perché il sistema si aggancia ai cellulari presenti in zona anche se a volte il segnale è scarso. O ricevono o non ricevono il messaggio dovranno compilare un questionario per mandare la risposta a Roma perché così Roma riesce a vedere dove arrivano questi messaggi. Faremo solo le procedure e non attiveremo tutto quanto il piano, è una simulazione. Vedremo un attimo se il piano fatto ultimamente dal comune di Campofilone sia veramente efficace per la popolazione. I miei figli stanno a scuola quindi sui gruppi scolastici sono arrivati questi messaggi di allerta che però sono solo messaggi di allerta e che non bisogna preoccuparsi. Comunque alla fine visto che anche la diga è quasi vuota non so fino a che punto può essere utile o no e poi come ci dobbiamo comportare. Pochissima linea, i cellulari, proprio tutta la vallata è scoperta, raramente si riesce a prendere in alcuni punti.